Fine. Stop. Basta. È finito l'incubo. Oggi chiudiamo un capitolo brutto, bruttissimo della storia della Juve e del calcio in Italia e di quello che è il concetto di giustizia sportiva. La Juventus ha finito. Basta. Quello che si doveva pagare si è pagato. Il Tribunale Federale Nazionale ha accettato il patteggiamento della Juve sul filone manovra stipendi a benda di 718 mila euro. Il club rinuncia ad ogni ricorso. Questo è il tweet che potete trovare sul profilo del mio caro amico Romeo Agresti ed è finita qua. È finita così. Io vi dico la verità. Non pensavo che sarebbe stata così facile. Continuiamo a puzzarmi. Nel video di questa notte continuavo a dirvi mi sembra semplicemente troppo semplice. Alla fine non ha vinto nessuno e hanno vinto tutti. Ora cerchiamo di mettere in piedi un discorso di un certo senso. Commento a caldo. Alla Juve non è andata bene. Di più. Di più di bene dal punto di vista della manovra stipendi. È andata di lusso. Una risoluzione di questo tipo non me la sarei immaginata neanche nei miei sogni più bagnati. È andata di lusso. Io ero preoccupatissimo per il filone stipendi. Preoccupatissimo per il rapporto con le partnership. È preoccupatissimo di vedere nuovamente l'articolo 4 inserito all'interno di un processo sportivo che era già stato programmato il 15 di giugno. Ero preoccupatissimo. Perché? Perché per come si erano messe le cose proprio sul piano della giustizia sportiva, sul filone relativo alle plusvalenze, ragazzi c'era soltanto da perderci ancora di più. Altri 10 punti in questa stagione? Altri 20 o 30 nella prossima? Magari l'annullamento delle coppe UEFA c'era da perderci un mucchio di roba. C'era da perderci veramente la faccia e altri anni. Attenzione, la Juventus non è che ha vinto. Prendiamo questo presupposto perché sto continuando a leggere che la Juventus ha pagato quindi troppo poco. Ragazzi la Juventus non va in Champions League. La Juventus non va in Champions League per un processo legato alle plusvalenze che ha avuto del grottesco e che ha falsificato un campionato. Ha falsato un campionato per tempi, per modalità e anche semplicemente per gestione. Il campionato di serie a corrente è stato falsato dal punto di vista sportivo. Perché non esiste al mondo che nel mentre di un processo, di un campionato sportivo, iniziano a mettere, a togliere dei punti, a rimetterli, a ritoglierli e ad organizzare altri processi. Arriva a fine stagione, fai il tuo processo, prendi in considerazione quello che è accaduto, valuti la gravità del reato e assegni dei punti di penalizzazione. Io credo che semplicemente si siano resi conto anche dentro alla procura di aver esagerato da questo punto di vista. Credo che abbiano capito che la Juventus ha avuto un danno ed è un danno economico altissimo. Ragazzi andare in Champions League e non andare in Champions League in questo momento storico per una squadra italiana, anche se la Juventus non è roba da poco. Si parla di investimenti, si parla di stipendi, si parla di costi di gestione, si parla banalmente di competitività sportiva, di alcuni giocatori che potrebbero esserci come no, di altri che potrebbero scegliere questa squadra come un'altra. Si parla di un mezzo disastro dal punto di vista sportivo. Attenzione a dire che la Juventus non ha avuto una penalizzazione e che è finito tutto a favore della Juve. La Juve ha giocato un anno infernale con delle penalizzazioni assurde perché la giustizia sportiva non può e non deve lavorare in questi termini. E poi è arrivata a fine anno ed ha patteggiato all'interno di un processo dove c'erano sicuramente più possibilità di ottenere delle penalità maggiori. E questo è il concetto che deve passare. Attenzione ragazzi, non è vero che la Juve non ha pagato. Se poi venite a dirmi, sì, però 10 punti di penalizzazione per le plusvalenze che erano meno gravi e il patteggiamento e quindi 718 mila euro per il filone invece in renta di stipendi c'è qualcosa che non va assolutamente sì. Perché non dico che queste due pene dovevano essere invertite, ma forse per come si erano messe le cose sì. Perché se per il filone plusvalenze ci sono 10 punti di penalizzazione all'interno del campionato, per il filone stipendi non possono esserci 718 mila euro. Cioè, ve lo dico da Juventino, ma contro il mio interesse il filone stipendi era decisamente più grave e articolato di quello renatevole plusvalenze. Non può quella cosa più grave e pericolosa pesare così e quell'altra che è una cosa molto astratta e sappiamo bene, l'abbiamo già raccontata mille volte questa inchiesta sulle plusvalenze, valere 10 punti di penalizzazione. Avrei capito il contrario per come sono state articolate le accuse, come sono state mosse le accuse per quello che erano anche le idee dell'accusa. Avrei capito il contrario. Anzi, mi aspettavo delle due il contrario. Patteggiamento sul filone plusvalenze e multa e dall'altra parte i punti di penalizzazione per gli stipendi. Perché lì c'è più carne al fuoco. E vedremo perché io ancora devo leggere gente che mi dice sì però il CDA si è dimesso e quindi sicuramente hanno fatto qualcosa. Ragazzi, forse non è ben chiaro che ci sarà un processo penale che è diverso dal processo sportivo dove non ci sarà più la Juventus perché la Juventus ha finito ma ci saranno gli ex membri del CDA che dovranno rispondere di accuse dal punto di vista penale. Penale. È diverso, eh. Cioè si rischiava decisamente di più a rimanere dentro il CDA della Juventus dal punto di vista penale. Perché ancora una volta lo ribadisco, lo confermo, voglio che rimanga nella mente di tutti. Non è che la Juventus risulta innocente. Juventus addirittura arriva a patteggiare. Che non significa che si prende delle responsabilità e che ammette delle colpe. Ma sicuramente non era in grado, probabilmente in quel momento lì, di fare di meglio dal punto di vista giuridico. Non sarebbe riuscita a migliorare questa situazione. Questa era in assoluto la migliore ipotesi possibile. E qua ragazzi, come sono sempre stato abbastanza duro nei confronti di Juventus per questi silenzi, per questa mancanza di comunicati, di linee guida che facevano sentire anche il tifoso un po' abbandonato a se stesso. Io qua devo fare un passo indietro. Cioè ne va del mio onore. Devo farlo. Se prima questa cosa l'avevo evidenziata come negativa, c'è tutta una motivazione dietro a questo silenzio della Juventus. Si stava costruendo questo capolavoro. Perché la dirigenza della Juventus attuale, che è stata costruita per tamponare l'emergenza, è stata costruita per cercare di sistemare i disastri che aveva lasciato il vecchio CDA, le macerie. Questa dirigenza della Juventus qua ha evitato il bagno di sangue. Cioè qua c'era un'emorragia in corso. Sono riusciti a salvare la Juventus che stava sanguinando. E sarebbe potuta morire. Ma non morire retrocessioni, radiazioni come tanti, tantissimi avvoltoi sciacalli, non meritevole della professione che ricoprono. Quindi quella del giornalista, vi hanno raccontato in questi mesi, in queste settimane. Perché quelle sono veramente persone che vengono etichettate come feccia. Se questo è il grado di informazione, se è lì che vi informate, ragazzi, fatevi due domande e datevi due risposte. Perché si segue un regolamento di giustizia sportiva completamente diverso da quello attuale. Completamente diverso. Non venite mai a dire che la Juventus non ha pagato. Non venite mai a dire che la Juventus ha vinto. Sicuramente la Juventus dal punto di vista degli stipendi ha pagato fin troppo poco rispetto a quello che poteva essere e forse doveva pure essere. Anche se stiamo parlando comunque di un'accusa basata sugli stipendi, nemmeno non pagati, ma trasposti all'interno di diverse mensilità nel periodo del Covid. Quindi sicuramente sarà stato fatto per un motivo. E non sono qui a difendere la buona fede di Juventus proprio perché non ho intanto gli elementi per farlo. E poi non c'è stato nemmeno un processo, quindi non abbiamo avuto modo di scavare e di indagare su questa roba qua. Vi dico la mia, io pensavo che Juventus potesse essere colpevole dal punto di vista degli stipendi proprio perché sono andati anche ad aggiustare i bilanci. Sono andati a risistemare qualcosa. hanno rimesso il bilancio all'interno del regolamento dell'esercizio. Quindi hanno fatto, secondo me, lì c'è stata una manovra da parte della Juventus non proprio le gare. Anzi, probabilmente ci poteva scattare una sorta di penalizzazione lì. Quindi sì, non ho problemi a dirlo. Anche qua sarei ipocrita, sarei incoerente. La Juventus secondo me, dal punto di vista degli stipendi, un bacino qua e un bacino qua. Da baciarsi i gomiti, tutti e due i gomiti. Da baciarsi i gomiti per come è finita. Però ricordatevi che questa è stata una volontà di impacchettare tutto. Processo plus valenze, processo stipendi, li metto nello stesso calderone e quello che doveva uscire alla fine è uscito. Cioè la somma dei due processi doveva fare probabilmente davvero questa roba qua. A livello giuridico, probabilmente. A livello quindi di penalizzazione di quello che arriva sul campo. Perché, ripeto, sempre secondo la mia posizione, che vede la Juventus comunque coinvolta dal punto di vista degli stipendi, cosa non dimostrabile. È una mia opinione, non è una notizia. Questa cosa non è una notizia. Cioè non sono qui a dirvi che Juventus è colpevole. Ma così come ne sono qui a non dirvi che Juventus è innocente. Io non ho idea di quello che abbiamo fatto, non lo so. Avrebbero dovuto analizzare durante un processo sportivo che non c'è stato. Ripeto, probabilmente si sono resi conto che dall'altra parte c'è stata una mano pesante, non pesante, di più. E sarebbe stato anche una grossa sconfitta per la giustizia sportiva togliere meno punti rispetto a quelli che sono stati poi effettivamente anche di fronte ad aver capito che si è calcato troppo la mano. Si è calcato troppo la mano. Quindi dall'altra parte, per paura del Tar, per paura dei ricorsi, per paura di una guerra da parte di Juventus, per paura anche banalmente della suddivisione dei diritti televisivi l'anno prossimo, ragazzi. Perché questa è stata una battaglia combattuta anche da persone che hanno disdetto gli abbonamenti durante queste settimane e questi mesi. Io mi sono già esposto, l'avevo già detto in principio, non posso farlo per lavoro. Ho necessità di avere gli abbonamenti per portarvi dei contenuti. Ma se ci sono persone che ritengono questa la strada corretta per, se ci sono persone che non sono più interessate al prodotto che fanno benissimo a disdire, ma non per fare un danno ad Azzon, non per fare un danno a Sky, per far capire alla Lega Calcio Italiana che l'anno prossimo il tifoso di Juventus non sarebbe nemmeno più interessato a sottoscrivere questi abbonamenti. E dato che siamo qui a discutere del prossimo triennio dei diritti televisivi e il girano dei soldi, non mettiamo in secondo piano questa cosa, perché lì c'è stata una battaglia che ha visto protagonisti diversi tifosi di Juventus e a questi voglio fare un altro applauso, se devo fare un applauso alla dirigenza della Juventus, non so se Francesco Calvo, non so se Gianluca Ferrero, non so chi sia arrivato lì, chiunque sia stato un applauso, davvero un applauso, perché per come si era messa poteva essere un bagno di sangue incredibile, si è scesi a patti con delle persone che probabilmente volevano farti decisamente più male, ma anche loro avevano interesse a non calcare troppo la mano, perché si sarebbero persi sempre quelli che fanno poi la differenza nel mondo, i soldi, perché mancano i tifosi e meno soldi entrano nel sistema calcio Italia. Questa è una verità scomoda, mi dispiace, se qualcuno non la vuole digerire fa lo stesso, ma senza il tifoso iniziano a mancare soldi nel sistema calcio in Italia. E io sono davvero convinto che abbiano messo tutto in un calderone, si siano resi conto che di là hanno tirato troppo la corda, che tirando ancora la corda di qua sarebbe stato un danno anche per la Lega italiana, per la Lega Serie A, e si sia voluti arrivare alla fine anche ad aiutare la Juventus, perché questo patteggiamento, inutile girarci intorno, è una notizia super positiva per la Juventus, che però non ha perso, perché si è comunque ritrovata penalizzata da un'altra parte, dove probabilmente per quelle che erano le accuse, per quello che è regolamento sportivo, meritava di meno. Poi vi dico, quando si dimette il CDA, quando inizia tutta questa storia, quando si parla dei due filoni, voi cosa avevate in mente? Probabilmente io ve lo dico, dato che avevo delle paure dal punto di vista degli stipendi, e per quelli che erano state le richieste, avrei firmato per arrivare poi a questa situazione qua, quindi 10 punti e 718 mila euro, avrei firmato, avrei firmato, puoi lasciare tutto all'interno di una sola annata sportiva, che non significa che non avrà ripercussioni nella prossima, perché cavolo se ce le avrà, ce le avrà alla grandissima delle ripercussioni nella prossima, ripeto, la Juventus non va a giocare la Champions League che aveva raccolto sul campo, che aveva conquistato sul campo, cioè non facciamo passare la Juventus come la vincitrice assoluta, hanno fatto un favore a Juventus, no, non è assolutamente così, ma poteva andare peggio, decisamente peggio, io credo che questo sia stato, permettetemi, voglio arrivare, uno schifo all'italiana, una porcata all'italiana, dove alla fine si sono messi d'accordo per la convenienza totale, alla fine conveniva a tutti e due andare in quella direzione lì, però non parlatemi di giustizia sportiva, non venitemi a dire che quello che è accaduto può essere giustizia, perché dalle parti della plus valenza, la Juventus, quella roba lì, non se la meritava mica, e dalla parte degli stipendi, la Juventus, questa agevolazione qui, probabilmente non se la meritava mica, sempre secondo la mia opinione, non lo sto dando, è la mia opinione, la Juventus meritava meno di là, la Juventus meritava di più di qua, questa è giustizia? È giustizia che la Juventus prenda 10 punti sulle penalizzazioni e sul finanziario stipendi 718 mila euro? O avrebbe avuto più senso il contrario? Sempre secondo la mia opinione, per me è stata fatta veramente una porcata all'italiana che è ben distante dal concetto di giustizia e soprattutto è ben distante dal concetto di sport, perché quello che abbiamo visto quest'anno non è stato un campionato. Ragazzi è finita, da oggi possiamo tornare a parlare di calcio, manca 90 minuti alla fine di questa stagione maledetta e poi vedremo se cambierà anche qualcosa dal punto di vista del direttore sportivo, dell'allenatore e della squadra, sicuramente sì, anche perché ripeto, non giocare alla Champions poi fa tutta la differenza nel mondo e la Juventus di sangue ne ha perso, ma non è morta per moralgia.